benvenuti io sono il cencio e questo è un nuovo episodio di amnesia a machine for pigs nella scorso nella scorsa puntata abbiamo giusto visto l'introduzione abbiamo avuto tantissimo di cui parlare i quadri le note l'architettura della casa c'è veramente tantissimo in questo gioco da osservare ascoltare e soprattutto c'è tantissimo su cui bisogna soffermarci a osservare e riflettere è la natura del gioco stesso è questo che che si fa in questo videogioco ma abbiamo cominciato ad intuire la l'atmosfera che regnava in questa casa l'atmosfera sicuramente triste sicuramente disperata sicuramente distrutta che regnava in questa famiglia non sappiamo ancora bene perché e non sappiamo ancora a che livelli siamo ma subito intuiamo che di sicuro non era la famiglia felice e sorridente del mulino bianco questo è poco ma sicuro quindi continuiamo ad inseguire i nostri due bambini edwin ed enok che giocano in soffitta due giocano in soffitta due culle questo praticamente ci conferma la presenza di due gemelli altrimenti 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 Grazie a tutti. 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 L'India era una colonia inglese, moltissimi inglesi facevano costantemente viaggi in India prima e dopo il periodo, anzi prima, durante e dopo il periodo coloniale inglese in India. Quindi, plausibile che qui si stia parlando dell'India e della lebra in questo caso, consumato da una qualche malattia puzzolente. Comunque, qui già abbiamo altre informazioni in più, continuiamo a dare un occhio dentro i nostri scaffali. Ok, questo l'avevo, questo l'avevo già aperto, c'era un libro che purtroppo non posso prendere. Non riesco a leggerlo bene da così, lo vedo malissimo. Forse voi lo vedrete meglio. Eccolo. Eccolo. Ma è sempre all'incontrario. Non riesco a leggere il titolo. Tanto è un libro che è comunissimo, quindi lo rivedremo spesso. Stemma di famiglia. Eh, voi non avete idea questi quadri quanto raccontano. Io solo con questo quadro potrei mettervi qui e spiegarvi tutta la storia del gioco. Questo quadro ci dice tutto, è pazzesco. Pazzesco. È veramente pazzesco. Questa è sostanzialmente, di nuovo, la testa di maiale, così come quell'uomo con la testa di maiale, ma è abbastanza ovvio. Il titolo del gioco è Amnesia, A Machine for Pigs, una macchina per i maiali. Quindi possiamo comprendere che già poi abbiamo pure sentito parlare dei maiali in quella lettera. I maiali sono un tema centrale. Comunque, in questa stanza possiamo, oltre che perderci ad ammirare la bellezza di questi quadri, possiamo proprio perderci nell'interpretazione di questi quadri e raccontare l'intera storia del gioco. Proprio così, non potremmo passare le altre 20 puntate qui e io vi potrei benissimo raccontare tutta la storia del gioco attraverso questi quadri. Si può davvero fare qualcosa di incredibile. Difatti, questi quadri sono quelli che sono stati scelti da The Shining's Room e, per onor di cronaca, lo devo dire, verranno riproposti più e più e più e più volte in varie location del gioco, ok? Cioè, si ripeteranno, si ripeteranno. Già l'avete visto questo qua, l'abbiamo già visto due o tre volte, pure questo la seconda volta che lo vediamo, via discorrendo, no? I quadri non sono unici in questo gioco. Questo ce lo ascoltiamo poi. Qui invece possiamo vedere una mappa che difficilmente la si legge, però qua sotto vediamo Granata, qui sopra sembrerebbe Hispania e la Lusitania e qui una piramide non egizia ma sudamericana un modellino, ecco, un modellino di una piramide sudamericana. Potrebbe benissimo essere Maya, Azteca o qualcosa del genere. E qui possiamo benissimo ricollegarci alla lettera che abbiamo letto prima. Le rovine, potevano benissimo essere le rovine di il viaggio che hanno fatto il nostro protagonista, i suoi bambini, poteva benissimo essere un viaggio a un monumento del genere. Guardate, c'era un interesse in dubbio per l'archeologia. In dubbio proprio. Ok, grazie a tutti. Ok, grazie a tutti. E qui, questo è un peccato Non poterli riascoltare Perché vi giuro La prima volta che si gioca E si cerca di Capire come stanno andando le cose Fanno molto comodo Abbiamo subito capito Anzi Se non l'avete capito ve lo dico io Perché è meglio per voi che lo capiate il prima possibile Che qui assistiamo al dialogo Registrato Con una macchina tra l'altro inventata Dal nostro protagonista Tra il nostro protagonista L'uomo che stiamo impersonando E un non meglio noto Perlomeno ancora professore Che è stato mandato Dal ministero Non sappiamo di che tipo di professore si tratti Non sappiamo per quale motivo è qui E non sappiamo a dire il vero neanche Che tipo di ministero lo abbia mandato Però Possiamo subito intuire che Se un qualsivoglia ministero Manda un qualsivoglia professore Soprattutto che usa quel tono lì Quando parla Da te È sicuramente una roba seria Di qualsiasi natura sia È seria Ok Ovviamente approfondiremo Più avanti Questo non era nella mente Del nostro protagonista C'è stato davvero una specie di terremoto qua Ovviamente un Un moschetto Questa è stata sigillata Soprattutto che ci sono Oh È proprio horror È un qualcosa che Non deve per forza fare paura Deve fare orrore La paura e l'orrore Sono due cose diverse È un qualcosa di più profondo Di più psicologico Che per questo motivo Va compreso Che comunque vada Lascia le sue suggestioni Anche senza Una completa comprensione Però Non è Non è la stessa cosa Se questo telefono Improvvisamente facesse un ghigno E ci urlasse in faccia Ci spaventeremmo di sicuro Chiunque si spaventerebbe di sicuro Anche il gatto dietro di voi Si spaventerebbe Però Il fatto che uno sconosciuto Qualcuno che non conosciamo Che non si presenta Che ci telefona Nel mezzo di una notte Come questa Dicendoci una frase Criptica e insensata Come quella Inizia già A metterti il dubbio A instillare il dubbio La paura Sotto sotto Quella che Non trova modo Di sfogarsi In quanto paura Rimane lì Si annida E diventa orrore Quando si comprende La natura Di questa telefonata Cosa che noi al momento Non possiamo comprendere Vado a notare Altre armi Abbiamo anche una nuova nota Nel nostro diario E una da leggere Abbiamo un occhio Ok Questi sono quelli Promemoria Le stanze delle lacrime Dove un tempo Piangevamo La scomparsa Di Lili Sotto armi Incapace Di uccidere Gli angeli E riportarla Dai cieli Scruta Oltre i dipinti Oswald Dove un tempo La guardavi Fare il bagno I bambini Devono aver scoperto Quei luoghi segreti E devono Esserci Si rifugiati Io Mi dispiace Se risulto Ripetitivo Mi dispiace Se risulto Petulante Ma davvero Ma davvero Riuscite a paragonare Quello che stiamo leggendo lì Che è una semplice nota Così Un piccolo Promemoria Per guidare il giocatore Verso il prossimo obiettivo In un videogioco Paragonatelo A qualsiasi Altra A qualsiasi E che vogliate voi Qualsiasi altra Semplice nota In un videogioco Atta A guidare Il giocatore Al prossimo obiettivo Paragonateli Metteteli vicino Un accanto all'altro Leggetevi E rendetevi conto Di quello che c'è Qua Per fare una nota Del genere Guardate Che cazzo Hanno scritto Abbiamo come al solito Una valanga di informazioni Dove un tempo Piangevamo la scomparsa Di Lili La moglie Abbiamo appena scoperto Come si chiama la moglie Lili Sotto armi Incapace di uccidere Gli angeli E riportarla Dai cieli Scruta Oltre i dipinti Oswald Il nostro personaggio Ecco chi siamo E come ci chiamiamo Oswald Scruta Oltre i dipinti Dove un tempo La guardavi Fare il bagno I bambini Devono aver scoperto Quei luoghi segreti E devono esserci Si rifugiati Quindi probabilmente I bambini sono lì Ma Vi rendete conto Le immagini Che creano Queste tre righe Non solo le informazioni Che danno Ma le immagini Mentalmente Quando le si legge La bellezza E questa è la bellezza Della letteratura Ragazzi Perché A scrivere Come sono andate le cose Sono capaci tutti No? Sono capace anch'io Prendo e scrivo Ta 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 È andato così E così E così No? Quelli sono capaci tutti Ma a scrivere Come sono andate le cose Facendoti figurare Mentalmente Mentre lo leggi Delle immagini bellissime Degne di un quadro Quella È opera di un letterato Quella è opera di uno scrittore Che sa Fare La sua Arte Arte Qui parliamo di Arte E se c'è una cosa Che i giochi Della The Shining's Room Che anche solo chiamarli giochi Mi pare offensivo Ne sono pieni Ecco Se c'è una cosa Di cui sono pieni Quella è proprio L'arte Perché dalla musica Dai dipinti Dalla letteratura Ne è Strapiena E queste cose Sebbene come vi ho detto Prendano ispirazione Dagli scritti Di Orwell Di Wells Di tutti gli scrittori Di Baudelaire Qui c'è tantissimo Baudelaire Per esempio Di un'epoca Ormai andata Non sono copiati da quelli Cioè non sono presi E copiati lì Cioè nel senso Se ci riprova Chiunque Te Io O il tuo vicino Di casa Non ci riesce A rifare una roba Fatta così bene Perché bisogna essere artisti Per fare una cosa Fatta così bene E quello che vi dicevo Nell'episodio zero Riguardo La 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 grandezza Di questo team Di sviluppo È proprio perché In questo In questo gruppo Di persone Non ce n'è uno Che non sia un fenomeno Far qualcosa C'hai la Jessica Carrie Che è una compositrice Che Cristo scansati C'hai quell'altro Che ti scrive sta roba Che Wow Che ripeto Wow Non mi fraintendete È ovvio Sì sono tre righe È ovvio Ma che tre righe sono Eh Non so se riesco a rendere l'idea Capite che voglio dire Che immagini hanno dato Che immagini hanno dato Quando la leggete Queste tre righe Nella vostra testa Vi si forma un'immagine Una serie di immagini E che immagini E che immagini Beh Scusate se è poco Scusate se è poco Questo Presumo sia un 7 Presumo sia un 7 novembre 1898 Quindi un anno prima La banca rifiuta di farmi credito Porci ignoranti La notte resto seduto E piango da solo Quando i bambini La servitur Mai dormono E non possono sentirmi Amore mio Quanto avrei bisogno Di te in questo momento Dicono che ho sperperato La mia fortuna Che l'investimento In queste macchine Ha rovinato Il buon nome Della famiglia Cosa Volevano forse Che rimanessi Un macellaio Di quartiere Cosa sono Queste due braccia In confronto Alla moltitudine Pronta a lavorare Senza riposo Né stipendio Adattando i meccanismi Che troviamo in telai e mulini Ma se la banca avrà l'ultima parola Andrà tutto in fumo Se verranno a prendersi la casa Giuro che li ucciderò Li ucciderò tutti Prenderò il mio fucile Il mio fucile E di nuovo Guardate anche Non solo la bellezza Come Con cui queste cose sono scritte Perché ripeto Questo È letteratura Magari in mezzo a loro C'è uno scrittore Che è bravo a scrivere Gli hanno detto Oh te prego Carriaci Trasportaci Facci Facci diventare Sto gioco un successo Riempi sto gioco Di scritti Belli Come quelli Che sai scrivere te Che sai scopiazzare Tanto bene Da Baudelaire Da Orwell Da Edgar Allan Poe Eccetera eccetera Ok E questo si mette lì E ti fa il gioco Tutto pieno di scritti Bello eh Bellissimo Però Poi tutto il resto Perde di collante Perde di coerenza Notate Quello che voglio farvi vedere Notate Non solo quanto sono belli Questi scritti Ovvero Come sono scritti bene A livello di linguaggio Eccetera eccetera E come sono Perfettamente ottocenteschi Questi scritti Ma Come gli indizi Si concatenano L'un l'altro Ampliando le nostre conoscenze In una descrizione Di una situazione Che è Impeccabile Impeccabile Qui Qui A noi Ci è stato dato Con Quattro indizi Un quadro generale Enorme E non solo Con quale distanza Di tempo E con quale ritmo Ci sono stati dati Questo Ovviamente Non l'ha fatto La stessa persona Che si è messo lì A fare gli scritti Questo l'ha fatto Qualcun altro Che si è occupato Di ritmare Dare un ritmo Dare una cadenza A questi scritti A questi ritrovamenti A questi indizi È come una stanza Voi immaginatevi come essere In una stanza enorme Di una cattedrale Con un Con un affresco bellissimo Nella parete La stanza è buia Perché è notte C'è stato Un pittore bravissimo Che questo affresco L'ha fatto È bravissimo Un giotto per esempio Un caravaggio Un fenomeno Che ti ha fatto questo affresco Quello che vi pare Da vinci Quello che volete Ha fatto questo affresco Bravissimo Ma Per mostrarvi Questo affresco C'è qualcuno Che ha costruito Un insieme Un impianto Complicatissimo Di lampadine Che si accendono Al momento giusto Al ritmo giusto Nella posizione giusta Per rivelarvi Piano piano Pezzo pezzo Questo enorme affresco Senza rovinarvelo Tutto insieme Senza spoilerarvelo Capite Ogni lampadina Si accende Al momento giusto Rivelando un piccolo frammento Una piccola porzione Di questo affresco Pam 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 Sono riuscito a rendere l'idea Perché noi spesso Fruiamo Di delle cose Fruiamo di Per esempio Nei film Nei videogiochi Di questi piccoli dettagli Che sono Di una virtù Immensa Ma non ce ne rendiamo conto Perché non ci fermiamo A soffermare Sì ciao Ma che cosa sto dicendo Non ci soffermiamo A pensare A quanto in realtà Sia difficile fare questa cosa Farla per bene Senza disturbare Lo spettatore E lasciandogli Al completo Il 100% Della comprensione Di quello che deve Poi Fruire Che sia esso Un affresco Una storia Un libro Un film Quello che volete Capite Sono riuscito a rendervi l'idea Con l'esempio delle lampadine Non è facile fare una cosa del genere Non è facile Studiare il ritmo giusto La posizione giusta Di quelle lampadine Per far sì Che lo spettatore Si goda Pezzo pezzo Tutto l'affresco È veramente Difficile Ed eccoci qua Ecco forse perché piangeva Sicuramente la perdita della moglie Come vediamo in qualcosa Che l'ha distrutto E che gli è rimasto lì Perché Dov'era Amore mio Quanto avrei bisogno di te In questo momento È un uomo Profondamente innamorato Della propria moglie Che purtroppo ha perso Un uomo Ovviamente Ancora Immerso nel lutto Perché Una delle cose Che Succedono Quando si supera il lutto È che Non è che proprio Si dimentica la persona Però Si comincia A Sebbene Per sempre Sentirai la mancanza Della persona Che ti era cara E che non c'è più Quella È una cosa Che non passerà mai Per il resto della tua vita Se davvero Quella persona Ti era cara E la amavi davvero Non passerà mai più La mancanza La sentirai sempre Però Superate le fasi Del lutto I cinque stati del lutto Inizi A non sentirne Più bisogno Ecco Inizi a non diventare più Un qualcosa Di indispensabile Un qualcosa In cui Non puoi più Vivere senza Perché proprio Quello è il lutto È proprio quella La disperazione Che ti assale Quando perdi Una persona cara Quella sensazione Dentro di te Quella certezza Che hai Che sai Di non poter Vivere senza Quella persona Di non poter Andare avanti Di aver perso L'aria Che respiri E quella cosa E quella cosa Questa sensazione Terribile Che è una delle cose Uno dei dolori Più forti Della vita Questo dolore Questa sensazione Piano piano Si Si riduce Sempre di più Sempre di più Fino ad essere Solamente una piccolissima Presenza Nascosta da qualche parte Dentro di te Quasi un ricordo Che c'è Ma non c'è E qui Da come scrive lui Da come scrive Il nostro Oswald Sappiamo che Il lutto Ancora non è stato superato Chissà Da quanto è deceduta La moglie Ma Non ci sono tempistiche Per il lutto Un lutto può durare Una settimana Un mese Un anno Così come Tutta la vita In alcuni casi Ci sono casi In cui il lutto Non lo si riesce A superare E ci tengo a specificarlo Che non è una cosa Normale E non è una cosa sana C'è un problema Quando non si riesce A superare il lutto Magari serviranno anni Però quel lutto Prima o poi Lo va superato Detto questo Non sembra che il nostro Protagonista Questo lutto L'abbia superato E cominciamo a capire Che ha un conflitto Con la banca Che si rifiuta Di fargli credito Vedendo quanto è ricco Il nostro Caro Oswald L'entità della casa Della servitù Che ha I soldi ce li ha Quindi questo credito Non è il primo credito Che gli viene fatto Sicuramente Quindi vuol dire Che non è che la banca Si rifiuta di fargli credito La banca si rifiuta Di fargli ulteriore Credito E questo è il punto E questa è la cosa importante Chissà Quanti soldi Ha chiesto Oswald Per fare quello Che deve fare Abbiamo capito Che lui vuole fare Un investimento Nella sua fabbrica Ricordatevi che siamo A fine 1800 Piena rivoluzione industriale Il momento in cui Il mondo È davvero cambiato Da così A così Perché sebbene Il mondo Dall'età del bronzo Fino al rinascimento Sia indubbiamente cambiato E anche tanto Ma non c'è mai stato Nell'epoca Dell'umanità Non c'è mai stato Un cambiamento Così repentino E radicale Quanto quello Avvenuto durante La rivoluzione industriale Tra prima E dopo È un qualcosa Di assurdo Quello che è successo In quel periodo E in piena Rivoluzione industriale Quest'uomo Quest'Oswald Che non vuole più essere Non vuole più rimanere Un macellaio Di quartiere Ha deciso Di investire In Una serie Di macchinari Una moltitudine Di braccia Pronte a lavorare Senza riposo Né stipendio Adattando i meccanismi Che troviamo In telai E mulini Questa è una visione Eccentrica Folle Pazza Ma che tantissimi uomini Hanno avuto In quel periodo Voi immaginatevi Passare Da un'epoca In cui tutto si faceva a mano Tutto veniva fatto Dalle persone L'epoca Dell'artigianato Degli artigiani Dei falegnami Tutto veniva fatto A mano Dalle mani Di qualcuno Ogni minima cosa Ogni minima cosa Dal più Invisibile capo Di vestiario Dall'utensile Più sconosciuto Tutto Veniva fatto Dalle mani Di qualcuno Tutto Con la rivoluzione Industriale Arrivarono i macchinari Arrivarono gli automatismi Si cominciò Ad automatizzare tutto Non serviva più L'essere umano Non servivano più Persone Da pagare Persone che avevano bisogno Di mangiare Di bere Di dormire Di riposarsi Avevano bisogno Delle ferie Avevano bisogno Di un periodo Di malattia Perché si ammalavano Persone Che avevano Una vita privata Che avevano il proprio umore Che si svegliavano La mattina Col piede storto Non servivano più Improvvisamente Non servivano più Pensate agli uomini Gli industriali Di quei tempi I primi industriali Che cosa doveva succedere Nella loro mente Che visioni Dovevano avere Proprio come quelle Di Oswald Una moltitudine Di braccia Pronte a lavorare Senza riposo Ne stipendio Adattando i meccanismi Che troviamo In telaio e mulini Un complessissimo Meccanismo Come quello Di un telaio E di un mulino Di ruote che girano Di ingranaggi che si muovono Che spostano perni Fanno forze Sfruttano leve Per far muovere Tante braccia Tante manine Che fanno cose In questo caso Intuiamo Che macellano carne Perché Oswald Era un Macellario di quartiere Chissà Magari ha deciso Di dedicarsi a tutt'altro Vuole diventare Un Come si chiama Un calzolaio Quindi si dà All'industria Delle scarpe Chi lo sa Però per quello Che possiamo intuire Magari vuole aprire Un super mega Iper fabbricone Di Macelleria In cui Le carcasse degli animali Vengono prese Pulite Smembrate Tagliate E consegnate Perfette Senza stop 24 ore su 24 Senza bisogno Che si fermi Niente Un qualcosa Al tempo stesso Di incredibilmente Affascinante E terrificante E terrificante E qui potremmo E qui potremmo pensare Che magari Il professore Che abbiamo sentito Nel Nella registrazione audio Che è venuto A parlare Con Oswald Sia proprio Un professore Mandato Che se ne sa Da qualcosa Da un ministero Che lavora Con l'economia In qualche modo Per i problemi Di Oswald Perché Oswald Qui insomma I problemi Sono seri Ma se la banca Avrà l'ultima parola Andrà tutto in fumo Se verranno A prendersi la casa Addirittura La casa è ipotecata Questo vuol dire Che la casa è ipotecata Se verranno A prendersi la casa Giuro che li ucciderò È un buon motivo Per piangere Questo Eccoli qua I fucili Che non potevano Uccidere gli angeli Ma la porta è chiusa Eh sì Guardate i graffi Sul muro Del fucile Una porta segreta Non solo Una porta segreta Ma anche Quadri Anzi Vetri Camuffati Da quadri Per poter osservare I corridoi Della casa Questo richiude La porta Vediamo se possiamo Sì sì Possiamo aprirla E chiuderla Teniamola chiusa Non si sa mai Già Tubature Anche l'ufficio Il meccanismo E' l'anima Il ricambio Non convince Perciò Come pompa Meglio il condotto Intestinale Come una tenia Consente già Intrusione E riproduzione Ottone 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 meglio di rame Più resistente Filamenti cusciti Per tenere le ossa Tubo di rimozione Midollo Potenziale ago Ricambio composto Molto semplice Risponderà Induzione elettromagnetica Per aumentare Ritmo di rendimento Il siero Fornisce ripristino Accelerato Che risulta In un movimento Naturalizzato Entro due Tre giorni Soggetti Richiedono ancora La rimozione Dei lobby frontali Per ridurre Lo shock emotivo Al momento Della riattivazione Dannazione Dannazione Sia maledetta Quest'anima Dannata Se solo fosse Un meccanismo Orologeria Qui 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 Cioè Questo vaneggiamento In realtà È estremamente lucido Ma poco comprensivo A parte qua Il ricambio Non convince Perciò come pompa Questo credo sia Un errore Di traduzione Qua c'è stata una svista In genere La traduzione Di questo gioco Se io non ricordo male Non è fatta male L'adattamento Non è affatto Fatto male Però qua Secondo me C'è un errore Il ricambio Non convince Perciò Come pompa A meno che Non intenda Come ricambio Non va bene Perciò Lo usiamo Come pompa Potrebbe Potrebbe darsi Comunque Meglio il condotto Intestinale Come una tenia Consente già Intrusione e riproduzione Ottone Meglio di rame Più resistente Filamenti cuciti Per tenere le ossa Quindi parliamo di condotto intestinale Ossa Tubo di rimozione Midollo Potenziale ago Ricambio composto Molto semplice Risponderà a induzione elettromagnetica Per aumentare ritmo E rendimento Il siero Il siero fornisce ripristino accelerato Che risulta In un movimento Naturalizzato Entro tre giorni Quindi Stiamo parlando Di qualcosa Che sta venendo Creato Sta venendo creato Fatto di Ossa Cuscite Insieme a Tubature Di ottone Che sono meglio Di quelle di rame Più resistenti Qualcosa che viene Che risponde A un'induzione Elettromagnetica E aumenta Il ritmo Di rendimento E un siero Un qualche tipo Di siero Fornisce Un ripristino Accelerato Che risulta In un movimento Naturalizzato Entro due o tre giorni Questo che vuol dire Che entro due o tre giorni Non saprei come Chiamarlo Il soggetto L'esemplare Il qualsiasi cosa Sta venendo creato qui Fatto di Ossa E tubi Inizia a Muoversi In maniera naturale Entro due o tre giorni Grazie a questo siero I soggetti Quindi già Multipli Richiedono ancora La rimozione Dei lobby frontali Per ridurre lo shock emotivo Al momento Della riattivazione Una specie di Frankenstein Ve ne rendete conto I soggetti Richiedono Che gli venga fatta Una lobotomia frontale Perché la rimozione Dei lobby frontali È una lobotomia Per ridurre lo shock emotivo Al momento Della riattivazione Al momento Del ritorno In vita Se vogliamo Perché qui Stiamo parlando Della vita Come Una visione Puramente Meccanica Difatti Non è un caso Che il titolo Di questo Frammento Sia Il meccanismo E l'anio E infatti Si conclude Con Dannazione Dannazione Sia maledetta Quest'anima Dannata Se solo fosse Un meccanismo Orologeria Capite Se la vita Non fosse Mossa Non fosse Giostrata Da un'anima Da un qualcosa Di spirituale Di profondo Di estremamente Complesso E impossibile Per l'essere Umano Per la Per la Completa Comprensione Dell'essere Umano Ma fosse Un meccanismo Orologeria Che può essere Studiato Che può essere Misurato Millimetro Per millimetro Nella sua componente Più infinitesimale E riprodotto In una copia Identica Sarebbe tutto Più semplice Lo si potrebbe Riprodurre Lo si potrebbe Ricreare Lo si potrebbe Manomettere Lo si potrebbe Trasformare In quello Che lo si vuole Se solo fosse Un meccanismo Orologeria E non un'anima Questa roba È Di una Profondità Incredibile E richiede Veramente Che ci si soffermi Un attimo A riflettere Perché Boh È qualcosa Di inconcepibile Vi lascio Il tempo Alla prossima